Andrea Moro, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole. Perché dire il posto delle parole a lei, Andrea Moro, che è professore di linguistica, è un po' complicato e quindi sono timoroso nel dire il nome di questa trasmissione. Ma in ogni modo andiamo avanti. Andrea Moro, ricordo, come ho detto, professore ordinario di linguistica generale alla scuola superiore universitaria ad un allenamento speciale IUS di Pavia. Ecco, brevemente, Andrea Moro, forse qualcuno si chiederà che cos'è la linguistica generale. È una buona domanda. Di solito io me la cavo facendo un confronto con la medicina. Se si studia patologia generale, uno studia cos'è in generale appunto il processo dell'infiammazione o della degenerazione di un tessuto e poi fa le cliniche e quindi studia gastroenterologia e vede com'è l'infiammazione in quell'apparato e via dicendo. Ecco, la linguistica generale è un po' lo studio delle proprietà generali delle lingue indipendentemente dalle lingue specifiche. Quindi, per esempio, si tratta di capire quali sono gli elementi universali nelle lingue, quali sono quelli variabili ed è il raggruppamento più ampio. ovviamente poi si può declinare secondo i due assi portanti della realtà, cioè quello del presente e capire come funzionano le lingue in questo momento e quello invece del tempo e capire come funzionavano e come funzioneranno. A grosso modo la linguistica generale ricopre appunto questo compito ambizioso. E come funzionano oggi le lingue dal suo punto di vista? Come prima, cioè sono l'espressione di una struttura che noi ci troviamo in dotazione come Homo sapiens da circa 100-150 mila anni, la datazione è molto difficile e che stabilisce, per così dire, un recinto che a me piace chiamare i confini di Vabele dentro il quale poi le lingue si modellano in base alla cultura, alla tradizione, alla fantasia, alla politica, alla storia, alle migrazioni. Però tutto deve accadere dentro questa impalcatura che sono appunto i confini di Vabele. e quindi la sua domanda funziona, diciamo, l'ossatura generale è identica, però i vari modi in cui si manifesta ci fanno suonare come italiani o giapponesi o la lingua che le piace di più. Però Andrea Moro, tornando, lei ha citato Vabele, Vabele da tutti è conosciuta come quella costruzione che era plurilinguistica, nessuno capiva nulla e così via. Ecco, lei non pensa che siamo vissuti nei secoli di fraintendimento nei confronti di quella Torre di Vabele che può rappresentare null'altro che la diversità delle lingue, delle persone, l'essere particolarmente interessati alle differenze anche guardando la Torre di Vabele? Guardi, sono talmente d'accordo con lei che ho scritto un libro che tutto sommato si riassume esattamente con la sua frase che ho addirittura scelta in quarta di copertina. Nel mio libro cerco di sostenere, si titola La razza e la lingua, cerco di sostenere che Vabele non è una dannazione, ma un dono. E la frase finale, quella che ha detto lei, forse Vabele è un dono, forse tutte le differenze lo sono. Perché senza differenza c'è la paralisi, la paralisi della vita, nel senso che la vita deve essere un movimento dinamico, molecolare nel tempo che genera in modo inaspettato, appunto, e anzi fisicamente contraddittorio, come diceva Schrodinger, la vita non è prevedibile, se l'universo va verso l'entropia come mai nascono bambine e bambini. Ma dall'altra il fatto che anche l'identità personale non può esistere se non si colglie un valore nella differenza. E allora alla fine dico che Vabele è un dono. Quindi siamo totalmente d'accordo su questo. E adesso, insieme con Andrea Moro, andiamo a raccontare ciò che è stato l'incontro, seppure brevemente, al Festival Bergamo Scienza. Perché Andrea Moro ha raccontato ha raccontato il linguaggio, ma non solo il cervello, la comunicazione, insieme con un ospite che si chiama, niente meno che Noam Chomsky. Ecco, per chi non conoscesse questa figura? Chi è? Ma io sono molto di parte, quindi chi me ne sente parlare farebbe bene a documentarsi indipendentemente da me. Comunque, Noam Chomsky, se dovessi dirlo in sintesi, è la persona che ha riabilitato lo studio del linguaggio come fenomeno biologicamente determinato. Nel Novecento noi abbiamo l'esordio della linguistica con Ferdinand Sossiura a Ginevra che fa capire che la struttura è quella che conta. E abbiamo in questi cento anni una parabola che ci porta a far vedere che questa struttura non è arbitraria, ma nasce dall'architettura del nostro sistema neurobiologico. Ecco, Chomsky ha fatto fare questo salto. Ovviamente i salti non sono mai nel nulla, aveva alle spalle appunto lo strutturalismo, le idee portanti. C'è un prima e dopo Chomsky. Pensi che prima di Chomsky, per ritornare al paragone di Babele, si diceva che Babele era infinita, non si poteva prevedere nessun fenomeno linguistico e che tutte le lingue possono variare a piacere indefinitamente. Dopo Chomsky si crede il contrario, ma non soltanto Chomsky. la grande scuola della linguistica tipologica ha confermato che le proprietà delle lingue non sono mica casuali, sono un po' come delle costellazioni, vanno a gruppi. Ecco, questa cosa è il vero salto nuovo che c'è stato, che ovviamente ha, tra l'altro, un impatto enorme sull'apprendimento, perché con questa nuova visione che c'è una griglia biologica che precede l'esperienza, invece di immaginare che i bambini nascono con una tabula rasa sulla quale pian piano cresce da zero una grammatica, si è arrivati a pensare il contrario, ciò che noi abbiamo in testa, tutte le regole possibili e quelle che noi non utilizziamo rimangono a costruire la nostra grammatica. Un po' come i suoni delle lingue. Noi sappiamo tutti che se vogliamo imitare una parlata cinese non useremo la R e se un cinese volesse imitare una parlata italiana userebbe tanto le doppie. Ecco, questi suoni caratteristici delle lingue se non li apprendi entro i 4-5 anni di vita la natura non ti permette più di apprendere in modo spontaneo. Spero di aver compreso bene ciò che ha detto Andrea Moro quando lei poco fa parlava di griglia biologica che precede l'esistenza, è qualcosa di straordinario. Vorrei ancora rimanere proprio su questo aspetto perché è forse nella griglia biologica che il nostro essere si caratterizza e poi man mano che cominciamo la nostra esistenza cerchiamo, ci vengono create delle strutture sempre più complesse e noi ci diamo anche da fare. Lo chiedo a lei in quanto neurolinguista quindi questa coniugazione del verbo essere a partire dalla griglia biologica credo che sia importante. Sì, sì, guardi, è esattamente questa l'immagine che noi dobbiamo ricavare dell'apprendimento. Cioè noi col crescere selezioniamo tra le possibilità che ci sono date quelle compatibili con l'esperienza ma d'altronde lei pensi se noi invece di parlare di linguaggio parlassimo di arte figurativa il linguista quello che può fare no, diciamo il linguista il linguista che si occupasse di arte figurativa lo scienziato l'arte figurativa cosa dovrebbe fare? Vedere come funziona la retina come funziona l'occhio come funziona la mano e come funzionano i colori certo non ci sa dire se poi dipingiamo la primavera di Botticelli o Guernica di Picasso quello poi sta alla creatività umana ma i linguisti moderni devono cercare di decifrare l'impalcatura che sta alle spalle questa però a me piace la sua se mi permetto non dico perplessità però cautela perché effettivamente è una rivoluzione noi siamo abituati a pensare alle grandi rivoluzioni del Novecento come la fisica di Einstein o quella di Planck c'è anche la linguistica di Chomsky c'è questa capacità di vedere la lingua non solo come fatto biologico ma come selezione questi due fatti queste due teorie non sono meno belle meno appassionati di quelle di fisica ho provato addirittura a raccontarlo in una storia in un romanzo per cercare di convincere la gente della bellezza di questa ipotesi qualche risultato c'è poi mi scrivono più per il romanzo magari che per i saggi ma insomma sono contento anche di questo beh questo è importante però io vorrei introdurre a questo punto lei a parlare di scienza le neuroscienze cognitive che sono una parte estremamente ampia della ricerca scientifica e non solo ecco lo chiedo a lei in qualità di linguista ecco qual è il rapporto tra il linguista e la neuroscienza cognitiva? guardi io non mi fido tantissimo di questi tipi di etichette temo che siano soprattutto funzionali e gli speccati accademici ai circuiti della politica della scienza per catalogare in sostanza sì ma guardi ma anche vede noi siamo abituati a dire umanistico e scientifico o scientifico non mi piace neanche questa suddivisione io preferisco e credo che la vita intellettuale contemporanea della ricerca ma anche della filosofia possa solo ragionare per problemi e non per per domini di omogeneità quindi non so neanche bene se esistono le scienze cognitive le neuroscienze cognitive capisco che esiste invece un problema specifico per esempio un problema è dove nel cervello avvengono le competizioni linguistiche oppure un problema è come fa il cervello umano a esprimere la capacità di permutare di costruire pensieri infiniti permutando un numero limitato di elementi mentre nessun altro essere vivente è capace non c'è nessun altro essere vivente è capace di prendere come facciamo noi 21 suoni in italiano 25 suoni in italiano le lettere all'alfabeto più o meno e costruire le parole e dalle parole costruire le frasi ecco questi sono i problemi su cui noi ci concentriamo e mica ha detto che noi riusciamo a risolverli e può darsi che rimaniamo al di qua delle risposte però questa è la tensione autentica poi invece la catalogazione se questo pertenga alla linguistica alle neuroscienze tu curo le neuroscienze cognitive ma forse è un problema tipo veramente solo sociologico sì devi creare dei cassetti dentro cui mettere quando poi c'è una c'è sempre più un rapporto continuo un osmosi continua tra una scienza e l'altra quello che diceva poco fa lei è importante importante per voi studiosi importanti per noi persone cosiddette della strada ma l'importante è avere l'impegno quando si parla del linguaggio siamo tutti della strada a voglia altro che non c'è non c'è una visione privilegiata mi credo a meno che a meno che Andrea Moro mi scusi che non si parli di cose ovvie cioè quelle parole che anticamente erano le parole della via le parole cosiddette scontate però e quindi abbiamo tutti l'impegno a tendere verso non dico verso la perfezione che raggiungiamo ma comunque a capire e comprendere perché io stamattina ho aperto un suo libro e sono stato attratto da una sottolineatura che avevo già fatto tempo fa e di un certo Sofocle che aveva scritto Edipore accada quel che deve accadere io voglio vedere il seme da cui provengo anche se è umile sono stato generato così non potrei diventare altro dunque voglio andare fino in fondo nel conoscere la mia origine queste parole ci impegnano mi coglie sul vivo perché questa qui effettivamente l'avevo scelta come esergo di un libro perché tra l'altro pensi la traduzione di questa frase di Sofocle è tutt'altro che banale perché io l'ho provato a riscriverla attingendo alle traduzioni che sono in commercio perché ci sono due parole e lì è evidente Sofocle che sta parlando di due tipi di origini all'inizio il seme e poi l'origine in greco to sperma e o genos genos e sperma sono due tipi di origini diversi uno to sperma il seme è l'origine individuale io che nasco da mia mamma e mio papà come un seme e divento la persona che sono il genos invece è la sequenza di semi che stanno alle mie spalle sono due prospettive di origine completamente diverse in una fa capo la tradizione culturale l'appartenenza l'accettazione come diceva lei all'inizio molto opportunamente il riconoscimento del diverso per capire l'identità personale e nell'altro invece è la biologia perché io ho le mani e non ho le ali come mai io posso contare mentre una scimmia no ecco queste due origini Sofocle le aveva già capite e poi le ha messe in scena io ho una predilezione per la narrazione dei problemi è vero che appunto mi sono cimentato con risultati molto non neanche paragonabili però è proprio questo cioè spesso l'arte e la poesia coglie dei nuclei problematici e te li restituisce in modo vivido forse ancora più che che laboratorio però poi è in laboratorio che queste intuizioni trovano una forma razionale ecco è affascinante questa cosa che ci ha raccontato dello sperma del seme l'origine persone poi il genus questa sequenza di semi credo che questo sia poi nel patrimonio del generazionale da quando è mondo è mondo ma la parola generazione mi ricorda ne parlavamo proprio insieme con Isabella Guanzini a proposito di un suo libro la parola generazione è importante perché dal punto di vista ebraico per esempio la parola generazione è molto circolare e non vuol dire ritornare nel punto di partenza ma vuol dire ricavare ricavare da quel seme da quell'origine una forza che crea una nuova sequenza ogni volta esattamente questo qui c'è c'è anche una bellissima distinzione che faceva il mogliano nella rappresentazione del tempo che fanno i greci che fanno gli ebrei che poi noi abbiamo arredditato dagli ebrei per i greci il tempo è un evento circolare che inevitabilmente per quanto esteso si ripete il mondo ebraico è una semiretta che parte da un big bang qualunque sia e che poi va in avanti e noi ci troviamo in questa prospettiva in questa dimensione questa questa aspettativa del tempo che va questa cosa qui che la parola storia si dica le generazioni in ebraico l'ha detto molto giustamente lei rivela questa consapevolezza Andrea Moro qual è l'ultimo libro che lei ha dato alle stampe? ce n'è uno che è fresco in cova che è proprio con Chomsky e dovrebbe uscire tra qualche mese probabilmente nei primi mesi del 22 e si intitola Il segreto delle parole fa rima con un altro che era Il segreto di Pietramala invece una citazione dantesca nascosta che era appunto il romanzo ho insistito un po' io che ci fossero questi due segreti perché sono lo stesso segreto Dante aveva capito tutto sull'origine delle lingue su Vabele e Chomsky appunto nel 1900 ha fatto quello che dicevamo prima cioè ha inaugurato ha reso credibile questa visione biologica e compatibile però con la cultura e la creatività individuale Ricordo che il libro di Andrea Moro Il segreto di Pietramala è pubblicato dalla nave di Teseo ma prima di salutarci Andrea Moro qual è il libro invece che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi rivelando l'ignoranza personale sulla letteratura italiana una mia cara amica mi ha consigliato la lettura di Saba e ho letto Ernesto in questi giorni ho trovato che nella mimica linguistica di questo triestino ci sono delle possibilità espressive veramente commuventi e allora mi sono tuffato in questa lettura tra l'altro un romanzo autobiografico Ernesto pubblicato in ospedale che non doveva neanche uscire sì sì ma io comunque se dovessi consigliare quello che consiglio a me stesso questo è la lettura dei classici lei ha nominato Soffocle ma questo è uno dei libri che leggerei continuamente è il Dererum Natura si trova veramente una visione un po' allucinata ma anche straordinaria del mondo che cosa quale consonanza o risonanza ha oggi nel tempo che stiamo vivendo questo Dererum Natura ci può dire molto ce ne sono due secondo me una è l'importanza di questa dimensione razionale ma non scontata cioè alle volte il Dererum Natura viene venduto come il libro in cui la razionità deve sconfiggere tutto e non è vero tant'è vero che si conclude con una sia pure incompiuto si conclude con un affresco sulla sofferenza cioè non c'è razionalità che tenga se stai male stai male e l'altro però è molto interessante è il periodo storico in cui è stato scritto cioè un momento in cui poco prima della nascita di Cristo quindi poco prima che la storia si spaccasse nei confronti di una proposta verso la vita il mondo era comunque molto complesso dal punto di vista politico e dal punto di vista scientifico e il Crescio in qualche modo incarna questa tensione tra questi due tra questi due momenti ed è molto simile a noi oggi quanto è cambiato l'ordine naturale da Lucrezio ad oggi? l'ordine naturale in sé mi verrebbe da dire forse è identico il nostro modo di vederlo è difficile fare domande più belle ma probabilmente quelle che mettono in luce la mia pochezza non saprei davvero come rispondere credo però che come tutti i classici un po' come diceva Calvino ci potrebbe offrire con la sua lettura l'occasione per una risposta personale e quindi comunque vale la pena di rileggerlo e chiedere a noi stessi dove siamo è bello chiudere questa conversazione dicendo chiedere a noi stessi dove siamo e coniugare il verbo essere lei l'ha l'ha raccontato anche in un libro a proposito del verbo essere è un verbo è un verbo importante è portante il nostro sguardo e non solo grazie grazie davvero Andrea Moro del tempo che ci ha dedicato grazie a lei e alle sue domande bellissime buongiorno alla prossima grazie a tutti